Ciao cari amici, bentornati a Un tè con Elena. Allora, ripeto, chiedo scusa se sono un po' assente in questi giorni da YouTube, ma periodo mamma mia lavoro disastro, per cui faccio veramente fatica a ritagliarmi degli spazi con voi. Però, però, come vi avevo anticipato in quel brevissimo video di mercoledì, sono riuscita ad andare a un evento di Voci della Storia, e ve ne ho parlato spesso, Voci della Storia di Eva Musci e Antonio Zappa, che è il mio amico, che ha la libreria Seregno, sempre un po' di pubblicità per chi è della zona, Galleria Mazzini 1, appunto a Seregno, provincia di Monzebrianza. Allora, c'era la presentazione dell'ultimo romanzo di un autore che a me piace molto, che è Marco Malvaldi. Allora, l'ultimo romanzo di Malvaldi, poi, è abbastanza famoso, tra l'altro era in giro al Salone del Libro, l'ho sentito anche alla radio, credo, Caterpillo, non so quale programma, è un po' in giro per presentare il suo libro. L'ultimo, poi lo conosciamo, ha scritto un sacco di cose, vi cito solo i delitti del barlume che erano stati portati anche in televisione, mi sembra con Filippo Timi come protagonista, avete presente i vecchiettini appunto del bar. L'ultimo libro, però, sapete che ogni tanto pubblica di questi libri, il precedente era stato due anni fa forse, sempre per Giunti, perché i delitti del barlume sono per Sellerio, mentre per Giunti aveva pubblicato, mi sembra un due anni fa, La misura dell'uomo, che era un, diciamo, un giallo, filone giallo, il cui protagonista era niente po' po' di meno che Leonardo da Vinci ed era ambientato nella sua permanenza a Milano, sapete che appunto Leonardo aveva abitato per un po' di anni a Milano e c'era questa vicenda gialla. Questa volta un altro grandissimo protagonista della storia della scienza e della storia della scienza, grande, grandissimo genio italiano che è il protagonista e che è Galileo Galilei. Il volume si intitola Oscura e Celeste, appunto, di Marco Malvaldi, per Giunti, al prezzo di 19 euro. Guardate che bella la copertina, tra l'altro è molto bella a livello tattile, proprio piacevole da accarezzare. Allora, il protagonista, come vi dicevo, per un'altra volta è un italiano illustre, appunto Galileo Galilei. Io ho avuto il piacere di assistere a questa serata di presentazione a Meda, nel comune di Meda, la sala consigliare. Tra l'altro la sera dopo, sempre per voci della storia, Malvaldi è andato a fare la presentazione a Tradate. Ho avuto modo, tra l'altro, persona estremamente piacevole, grande affabulatore con questa parlata toscana, perché lui è pisano e sapete che già la cadenza toscana, almeno a me, affascina. È estremamente piacevole da sentire. E tra l'altro Malvaldi, dote di cui sono ben forniti molti toscani o toscanacci, doc, hanno questo senso dell'umorismo un pochino anche cattivello, pungente, che è intanto delle persone intelligenti, ma poi piacevole, no? Lui appunto diceva come insultano i toscani senza far parere che sia un insulto, ma con una serie di ricchi giochi di parole, probabilmente non lo fa nessun altro in Italia. È un po' una delle tante doti di cui sono ben forniti i toscani. Allora, vicenda gialla, che io non vi racconto, perché ovviamente è sempre difficile parlare di libri gialli senza fare anticipazioni o spoilerare un po' la trama e i colpi di scena. Malvaldi racconta appunto che è un personaggio Galileo che l'ha affascinato sempre e dice che questo libro l'ha scritto in tre mesi. In realtà poi dice sì, ho scritto il libro in tre mesi, ma dopo tre anni di ricerche. Perché Malvaldi, che peraltro nasce come chimico, quindi la parte scientifica della sua mente la applica anche alla letteratura. Per cui ha fatto tre anni di ricerche, ha letto tutto su Galileo, a partire dai testi di Galileo, ma soprattutto il ricco epistolario. Galileo aveva due figlie femmine e qui viene ben narrato nella vicenda che Galileo era già un famoso scienziato, ma non aveva molti soldi. Quindi era un personaggio di un certo rilievo, quindi non poteva far sposare le figlie a dei poveracci, non sarebbe stato consono rispetto al loro censo, ma d'altra parte far sposare le figlie implicava fornirle di una ricca dote ed essendo tutto sommato abbastanza povero, non aveva di questi mezzi e quindi decide di mandare le due figliuole in convento. Il problema è che una figliola aveva una certa vocazione, quindi era, credo la maggiore, ben contenta, ed era la figlia più amata e che amava di più il padre, mentre l'altra figlia, che non aveva molta voglia di stare in convento, ma ahimè, aveva un rapporto estremamente conflittuale col padre. Tant'è vero che, tra l'altro, monache di clausura delle clarisse, tant'è vero che quando Galileo passava davanti alla finestra del convento la figlia li tirava dei sassi perché, insomma, conflitto irrisolto. Allora, siamo nel 1631 a Firenze, l'inquisizione, la peste e le vicende, appunto, di Galileo e delle due figlie, entrambe suore. E il metodo scientifico di Galileo che è un precursore della scienza moderna per molti aspetti. Poi c'è l'inquisizione, sapete che fu anche sottoposto, no? A processo da parte del tribunale inquisizione perché, allora, tutto ciò che era anche scienza doveva passare al vaglio di quello che erano insomma, della chiesa cattolica di cui l'inquisizione, appunto, era il braccio che si occupava di valutare in termini di eresia di rispetto o meno del Vangelo anche le teorie scientifiche. Allora, libro molto bello perché è frutto comunque di una grossa ricerca. Chi ama Galileo dovrebbe leggerlo e chi ama i gialli leggere questo romanzo può portare, e peraltro Malvaldi ha invitato anche, dice andate a leggere, per esempio, l'epistolario di Galileo con la figlia. ci sono moltissimi personaggi tra l'altro fa questa cosa all'inizio ah, scusate, eh guardate che bello bellissimo condedica a Elena sempre con molto piacere mi faccio firmare i libri dagli autori quando riesco a incontrarli. All'inizio ci sono, diciamo, c'è una piantina vedete, di Firenze dove vengono indicati, no? Le ubicazioni del lazzaretto i giardini di Boboli il ponte vecchio il convento dove appunto erano le due figlie suore e presenta un po' tutti i personaggi, no? Dramatis, persone presso la villa il gioiello Galileo Galilei filosofo, astronomo matematico granducale ingegnario iuvinaiolo, eccetera, eccetera la Piera la domestica di Galileo poi presso il convento di San Matteo appunto il convento di clausura delle Clarisse dove erano le due figlie e le due figlie Virginia Galilei che poi prese il nome di suor Maria Celeste e Livia Galileo ovviamente che prese il nome di suor Arcangela che hanno un ruolo principale anche loro in questa vicenda poi ci sono tutti gli altri protagonisti o comprimari le varie suore suor Lucia suor Benedetta suor Chiara poi amici parenti allievi di Galileo alla corte del Granducato perché poi siamo al Granducato dei Medici giovanissimo Granduca di Toscana Ferdinando II dei Medici e via via gli inquisitori allora con tutta una serie di gesuiti di Domenicani ho iniziato a leggerlo a me piace lo stile di Malvaldi sempre i suoi romanzi frutto almeno questi diciamo storici di una ricerca veramente approfondita minuziosa quindi non racconta Bagianate e si deve attenere in un certo senso lui diceva certo che se c'è un ricco epistolario io mi devo attenere perché non posso stravolgere quello che è stato poi c'è un anno una lacuna di un anno nelle lettere nell'epistolario tra Galileo e la figlia e dice è lì nel vuoto io ho potuto immaginare tutta una serie di cose vere non vere ma la fantasia dello scrittore ovviamente lo definisce è stato molto piacevole ascoltarlo tra l'altro ho fatto anticipazioni io gli ho chiesto ma visto che c'è questo filone di personaggi famosi tendenzialmente scienziati quale sarà il prossimo lui dice ma in realtà non ci ho ancora pensato però sicuramente qualcos'altro scriverò un personaggio che mi affascina veramente molto è Picco della Mirandola mi ha anticipato che uscirà credo in autunno un libro della serie del Barlume e che comunque uscirà anche un libro scritto a quattro mani avevo parlato del precedente mi sembra con la moglie Samantha Bruzzone e io me l'ho divertita tantissimo adesso mi sfugge il titolo di Di Martini mi sembrava si chiamasse la protagonista questa signora che vive in questo paesino che si trova malgrado la sua non volontà coinvolta in una vicenda gialla basta vi ho raccontato altre cose vi racconterò perché oggi ho fatto un po' un caricone di libri dall'Antonio per adesso vi ricordo il libro di oggi Oscure e Celeste di Marco Malvaldi uscito da pochissimo compratelo perché vale la pena se riuscite in qualche evento a farvelo firmare ancora meglio perché sono ricordi preziosi detto ciò se vi è piaciuto questo video mettete like e se poi vi interessa quello che racconto sul mio canale YouTube Un Tè con Elena iscrivetevi è gratis e io sono felice e magari avrete anche voi il piacere di ascoltare un po' cari amici a presto e buon pomeriggio a presto a presto a presto